La nostra conversazione è dedicata alla norma dell'italiano, la norma che è l'incarnazione dello spirito più autorevole e autoritario della grammatica, la penna rossa e blu con cui l'insegnante ci corregge o ci correggeva quando eravamo giovani gli elaborati scolastici. La domanda che ci poniamo ora è, ma questa norma chi la governa? Da dove viene? Cioè chi è che comanda sulla lingua? Chi ha l'autorità per governare la lingua? Proveremo a rispondere a questa domanda attraverso una serie limitata di esempi che riguarderanno i quattro livelli che si vedono illustrati in questa diapositiva, il livello grafico, il livello fonetico, il livello morfologico e il livello sintattico. A ognuno di questi livelli proveremo a mettere a fuoco chi ha elaborato e ha dato alla lingua la norma relativamente a quella regola che sarà presa in esame. Incominciamo dal livello grafico e, come in tutti i casi che esamineremo, ci troviamo di fronte a due possibilità, a due scelte diverse. Vedete che se stesso da una parte è scritto con un accento e dall'altra senza accento. Potrei chiedere voi come lo scrivete e sarei quasi sicuro che lo scrivete come nell'esempio di destra, nella parte di destra, cioè senza accento. Tutti fanno così? È una regola ferrea e indubitabile? No. Basta andare in rete e ci si accorge, interrogando il motore di Google, che è un formidabile strumento per esaminare della lingua contemporanea, che le grafie di se stesso sono almeno tre, senza accento su sé, con un accento acuto o con un accento grave. E qual è quella giusta tra queste alternative? La cosa curiosa è che qualunque grammatico autorevole, da Fornaciari nell'Ottocento fino a Serianni nella nostra epoca, in epoca contemporanea, perché quella di Luca Serianni stampata dalla UTET è la grammatica più autorevole dell'italiano contemporaneo, dicevo qualunque grammatico esclude che se stesso senza accento sia la soluzione giusta. Tutti i grammatici preferiscono se stesso con l'accento. Eppure è un'esperienza comune di tutti noi constatare che se stesso con l'accento non è maggioritario, anzi è molto minoritario. Potrei citare il caso addirittura di qualche rivista, di qualche periodico che ha adottato se stesso con l'accento, ma la maggioranza degli editori e degli scriventi italiani invece lo usano senza accento. Mentre tutti i grammatici condannano se stesso senza accento. Per varie ragioni, una ragione di ordine fonetico, quel se che si distingue dalla congiunzione, il se pronome che si distingue dalla congiunzione, è di natura sua forte e dunque va accentato. L'introduzione di un'eccezione per se stesso o addirittura per se medesimo comporta una complicazione inutile, non ha nessun senso. Ebbene, nonostante questo, gli italiani in maggioranza scelgono la soluzione che i grammatici condannano. Come mai? Sarebbe interessante sapere perché. Di massima si può constatare che il se stesso senza accento è uno degli insegnamenti scolastici che restano più radicati. È stata la scuola a imporre involontariamente, ma diciamo con un insegnamento continuo e costante, questa forma che di per sé è addirittura sbagliata, ma che tutti ritengono giusta. C'è un condizionamento dei primi insegnanti, quelli delle scuole elementari, delle scuole medie, che ci insegnano le regole dell'italiano per la prima volta. Queste regole rimangono in qualche modo nel nostro più intimo, in una maniera molto forte, che ci condiziona per tutta la vita. E credo che tutti gli scriventi a cui hanno insegnato che se stesso senza accento è più giusto, sarebbero pronti a mettere la mano sul fuoco su questa verità. Però non ci interessa ora stabilire quanto torto hanno gli scriventi italiani che usano se stesso senza accento. Vi confesso che io stesso lo scrivo senza accento, perché sapendo che è giusto con l'accento, se lo scrivessi con l'accento, sarei costretto ogni volta a giustificarmi dicendo guardate che non ho sbagliato e che ho ragione io, perché i grammatici più autorevoli la pensano come me, troppo scomodo. La lingua è della maggioranza. Quindi in questo caso possiamo concludere così. Se stesso contro se stesso vince la scuola, perché abbiamo detto che è dall'insegnamento elementare comunemente impartito che viene la diffusione di questa regola, perdono i grammatici. Dunque i padroni della lingua, questo l'abbiamo ora capito, non sono necessariamente i grammatici, non i più autorevoli, visto che sono i meno autorevoli quelli che semmai hanno inventato questa curiosa regola del se stesso, che dovrebbe essere senza accento. Andiamo ora a un elemento di natura morfologica, ma anche fonetica. Il plurale è dei nomi in Cia e in Gia. In caso di provincia, ecco, com'è il plurale di provincia o di ciliegia. L'alternativa, vedete qui, è provincie con la i o province senza i. Ciliegie con la i o ciliegie senza i. Anche qui ognuno di noi può chiedersi, beh, ma io come scrivo? E io penso che la maggior parte di noi sia convinta, e non a torto, dell'esattezza di province senza la i e probabilmente di ciliegie con la i. L'adesione a questa soluzione che ho detto ci riporta questa volta a un grammatico. Era stato Bruno Migliorini, all'inizio, nella prima metà del Novecento, a codificare la regola per il plurale dei nomi in Cia e in Gia, ricorrendo a quella formulazione che oggi si impara anche a scuola, cioè se Cia e Gia è preceduto da consonante o è preceduto da vocale. Preceduto da consonante perde la i, preceduto da vocale conserva la i. Come mai Migliorini aveva, che è uno degli illustri grammatici, anche il primo grande maestro della storia della lingua italiana, come mai Migliorini aveva adottato, proposto questa regola? Perché il plurale di quei nomi creava molte difficoltà, perché come ci si comportava prima di questa regola di Migliorini? Per sapere se la i si doveva conservare o no, bisognava andarne a verificare l'origine etimologica. La conservazione della i era legata alla sua esistenza nella parola latina che aveva dato origine alla parola italiana. Una soluzione simile non è tanto semplice, è senz'altro giusta, etimologicamente giusta, però primo implica che il parlante conosca il latino, oppure che mentre parla, mentre scrive, meglio ancora, perché questa vocale, questa i, non si fa sentire foneticamente da tutti gli italiani. Alcuni italiani sì, possono pronunciare ciegie e farlo sentire, ma non sono tutti gli italiani. Per altri invece è un puro segno grafico. Quindi siamo a cavallo tra un problema di grafia e un problema di pronuncia. Ecco, dicevo, non è tanto semplice mentre si scrive, magari in una situazione fuori di casa, senza la propria biblioteca, non è tanto semplice ricorrere al vocabolario latino, anche se oggi esistono dei vocabolari latini persino sul telefonino. Ma è molto scomodo dover decidere in base a un'etimologia. Ecco perché Migliorini inventò questa regola. E questa regola ha avuto grandissima fortuna. È quella che ci hanno insegnato a scuola. Potremmo dire, questa volta, a differenza del primo caso di se stesso, la vince il grammatico. Ma non la vince proprio del tutto, perché per esempio, ancora oggi, andando in giro e guardando il nome di una banca di qualche importanza, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, si vedrà che la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha conservato la grafia precedente alla regola di Migliorini, perché in questo caso questa I è etimologica. La regola di Migliorini andava quasi sempre d'accordo con l'etimologia, ma ahimè, essendo una regola che tagliava la testa al toro e che divideva tra due opzioni secche, proprio per semplificare la vita dello scrivente e del parlante, questa regola aveva qualche problema, in qualche caso andava contro all'etimologia, cioè contro alla tradizione. La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde ha conservato la grafia ante regola di Migliorini. E le ciliegie, ecco qua, qui per esempio si vedono delle ciliegie vignola che rispettano la regola di Migliorini e qui invece si vedono delle ciliegie, anzi un gelato alle ciliegie e anche una confettura di ciliegie che non rispetta la regola di Migliorini. Nel caso di ciliegie non rispettare la regola di Migliorini ha un senso, se vogliamo, perché quella I non è di origine latina. La parola Cerasam ciliegia in latino non aveva la I e quindi non è etimologica e tuttavia in base alla regola di Migliorini bisogna metterla. Ecco qua un altro caso quasi torinese perché sono le ciliegie di Pecetto in cui non è rispettata la regola e anche un caso di una scrittrice importante, Oriana Fallaci, un cappello pieno di ciliegie scritto alla maniera antica, cioè non secondo la regola di Migliorini. Tuttavia, abbiamo detto che in sostanza poi per vedere se una regola funziona bisogna vedere se è abbracciata dalla comunità, possiamo dire che in larghissima enorme maggioranza oggi gli scriventi italiani sono ossequiosi nei confronti della legge della regola di Migliorini sul plurale di queste parole difficili, una regola che appunto viene anche insegnata a scuola, quindi quando grammatici e scuola vanno d'accordo le cose vanno benissimo e la regola vince, seppure con alcune eccezioni, che non sono errori, non sono errori, sono mancato o seque a una regola normalizzatrice, errori no, perché semplicemente chi scrive così rispetta il criterio etimologico che dicevamo. E qui abbiamo una pagina che si può trovare in rete del DOP, il Dizionario Italiano Multimediale Multilingue di Ortografia e Pronunzia, un dizionario molto importante di cui esiste la versione cartacea, il DOP stampato dalla ERI, era nato ad uso della televisione, degli annunciatori e dell'uso linguistico e dell'uso della lingua nella televisione, in cui come si vede viene consigliato per ciliegia nel riquadro azzurro il plurale ciliegie ma anche ciliegie senza la I. L'ordine dei consigli in tutti i vocabolari è sempre segno di preferenza, quindi il DOP che del resto era stato fatto da Migliorini, Tagliavini e Fiorelli, cioè dallo stesso Migliorini che abbiamo detto ha inventato la regola, consiglia ovviamente secondo, prima di tutto, secondo in ossequio alla regola dei Migliorini e poi avvisa anche che esiste quell'altro plurale che segue invece il criterio etimologico. Allora abbiamo già trovato, chi comanda la lingua era la nostra domanda iniziale, beh abbiamo trovato prima la scuola, gli insegnanti nella loro collettività un po' anonima, i grammatici che qualche volta ce la fanno e qualche volta no ad imporre la regola. Come si vede fino ad oggi, fino ad ora, fino a questa diapositiva abbiamo trovato due principi di autorità, scuole grammatici, ma mai lo Stato, mai accademie estetali. La lingua non è governata né dalle accademie, nemmeno dallo Stato, sarebbe troppo semplice se fosse così. In realtà appartiene a una collettività, ma una collettività che si fa influenzare da qualche cosa. Due di questi possibili propagatori di influenza li abbiamo individuati, vediamo se riusciamo a trovarne degli altri. Questo è un caso, questo che ora andremo a esaminare, molto celebre. È un problema che fino ad oggi, o almeno forse fino a ieri, dava qualche imbarazzo agli scriventi italiani. Ogni volta dovevano cominciare una frase con un lui o un egli soggetto. Lui ha detto o egli ha detto. Ma la scuola per molto, molto, molto tempo, oggi probabilmente non più, ma forse qualche insegnante più affezionato al passato ancora fa così, sconsigliava la scuola l'uso di lui come soggetto. Lui doveva essere un caso indiretto a lui, con lui, grazie a lui, ma non lui soggetto. Allora, questa volta è esemplare il discorso, perché ci troveremo di fronte per spiegare questo problema del lui soggetto, condannato da alcuni, accettato da altri e oggi probabilmente accettato molto più che in passato, dovremmo confrontarci con due principi di autorità fondamentali che fino adesso abbiamo evocato, ma solo in parte, perché abbiamo parlato di grammatici, ma non abbiamo ancora parlato di scrittori, anche se a un certo punto è comparsa la copertina di un libro di Oriana Fallaci che abbiamo visto non voleva rispettare la regola del grammatico migliorini. Come mai per molto tempo e forse ancora oggi insegnanti e grammatici hanno condannato il lui soggetto? L'hanno fatto perché il principe dei grammatici italiani all'inizio del 500, nel 1525, Bembo, Pietro Bembo, è il fondatore delle regole della lingua italiana così come sono state riconosciute e come sono state applicate per secoli e secoli. Studioso grandissimo, Bembo, un fondatore del petrarchismo cinquecentesco, uomo di autorità enorme nel campo della grammatica. Bene, cosa scrive Pietro Bembo? Scrive quelle righe che ho messo nella parte di destra della pagina. Ora, al nostro ragionamento ripigliando, dico che sono degli altri che invece di nome si pongono siccome si pone elli, sta parlando dei pronomi, e che è tale nel primo caso, come ello a volte si legga dagli antichi posto in quella vece nel petrarca altresì e ha lui negli altri, nel numero del meno, lui negli altri, quali altri? Negli altri casi, cioè nel primo caso, nel caso di soggetto, deve essere elli, ello, egli, soltanto negli altri casi, nei casi indiretti, può essere lui. Sono poche righe, ma hanno dettato la regola dell'italiano fino a quando? E per sapere, fino a quando? Fino a quando? Intendiamoci bene, frugando tra le scritture comuni i documenti dell'italiano dal cinquecento, seicento, settecento, si trovano senz'altro molti casi di lui soggetto, ma si trovano in scritture che non hanno qualità, perché non osservano la grammatica di verbo. Gli scrittori importanti, autorevoli, hanno osservato invece questa regola, a tal punto che è diventata stabile. Allora chi l'ha messa in crisi? Bisogna andare nella pagina di sinistra e i più attenti ed esperti avranno riconosciuto, grazie alla figurina, l'edizione del 1840-42 dei Promessi Sposi, in cui in corrispondenza con quella freccia che si vede, si vede lui invece caccia un urlo. Questo è Menico che arriva in casa proprio mentre dentro ci sono i bravi e quindi rischia di essere afferrato, catturato dai bravi, la figurina fa vedere Menico mentre sta per essere catturato, ma poi riesce a svincolarsi e a fuggire Menico. Lui invece caccia un urlo, invece di stare zitto. E lui è un soggetto, è lui il soggetto. E lo scrittore è Manzoni. E qui dobbiamo tenere conto di due elementi. Primo, l'autorità di Manzoni come scrittore, un libro Promessi Sposi nell'edizione quarantana che porta il fiorentino in tutte le scuole italiane, perché presto viene adattato come libro di testo. E Manzoni strascina dietro grammatici manzoniani. E perché Manzoni ha scritto lui? Perché Manzoni ha scoperto che nel parlato toscano lui, soggetto, si usa e come. E allora Manzoni lo impiega contro una tradizione rappresentata da Bembo grammatico. Questa innovazione del lui ha avuto fortuna. Oggi direi che il numero di coloro che esitano di fronte a un lui soggetto si sia di gran lunga ridotto, forse annullato. E qui potremmo commentare dicendo molto può l'autorità degli scrittori. Gli scrittori contano, specialmente quelli di una volta, più che quelli di oggi, che nel loro stile spesso mediocre non fanno che una sorta di imitazione di un parlato comune. Ma una volta gli scrittori con le loro scelte potevano avere questi risultati che abbiamo visto in Manzoni. Passiamo ora a un elemento di natura sintattica, congiuntivo o imperfetto nell'ipotetica della realtà. È più giusto se sapevo venivo o se avessi saputo sarei venuto. Che cosa usa ciascuno di noi nella vita quotidiana o in momenti anche in cui si deve adoperare la lingua in maniera formale e impegnativa. Ecco, qui per rispondere possiamo fare ricorso a un linguisto moderno. Nel 1985 e poi nel 1990 Sabatini, Francesco Sabatini, già presidente dell'Accademia della Crusca, autore del Sabatini Coletti, il lessicografo studioso di storia della lingua italiana, è intervenuto dando la descrizione di una serie di elementi che costituivano a suo giudizio l'italiano dell'uso medio. E all'interno di queste categorie, la prima che vedete è lui, lei, loro usati come soggetti, quelli di cui parlavamo prima, all'interno di queste categorie che compongono questo italiano dell'uso medio, naturalmente, eccolo là, al punto 11, l'imperfetto al posto del congiuntivo e condizionale nel periodo ipotetico dell'irrealtà. Se sapevo venivo, anziché se avessi saputo sarei venuto. Si è molto discusso su queste indicazioni di Sabatini che in pratica sdoganavano, come si usa dire oggi, una serie di presunti errori. Però, attenzione, Sabatini, quando definiva i caratteri di quell'italiano dell'uso medio, che secondo Sabatini era diffuso in tutta Italia, presso le persone colte, quindi senza distinzione di ceto sociale e di distribuzione geografica. Però Sabatini stava parlando, si stava riferendo a un italiano parlato, non un italiano scritto. E non voleva dunque mettere in crisi tutte quelle regole per la scrittura, nell'uso della scrittura. E allora possiamo a questo punto, verso la fine del nostro discorso, riassumere gli elementi che abbiamo incontrato attraverso l'analisi di quegli esempi su cui ci siamo soffermati. Allora, non esiste un'autorità normativa statale in Italia, un po' di più magari in altre nazioni come la Francia con l'Académie française e la Spagna con la Real l'Academia Spagnola. Ma non sempre anche queste istituzioni dotate di potere statale riescono a controllare davvero la lingua. La lingua in qualche modo vive nella comunità dei parlanti. L'autorità della scuola, certo, la scuola poiché insegna l'italiano a tutti gli apprendenti ha un notevole peso, delle volte addirittura insegnando delle cose sbagliate come abbiamo visto con se stesso o insegnando delle cose giuste come abbiamo visto con la regola di Migliorini che è accettata dalla scuola. L'autorità dei grammatici non sempre si esercita, qualche volta sì, l'abbiamo verificato nella regola di Migliorini e indirettamente anche nell'esclusione ad opera di Pietro Bembo fin dal 1525 del lui soggetto. I grammatici qualche volta riescono a essere autorevoli anche perché riescono a imporsi attraverso la scuola, ma non è detto che siano l'autorità senza appello e senza alternative, nemmeno i grammatici. I grammatici in base a che cosa scelgono tra l'altro? Beh, uno dei principi che li può ispirare è la razionalità del sistema, quindi possono razionalizzare il sistema. La regola di Migliorini è un esempio tipico di questa razionalizzazione di elementi che nel sistema erano troppo complicati. Oppure possono anche ispirarsi, anche i grammatici, all'autorità degli scrittori. Prima ho detto che dietro a Manzoni veniva la lunga fila dei grammatici manzoni. Con l'ultimo esempio, quello sintattico di se sapevo venivo, se avessi saputo sarei venuto, ci siamo avvicinati a un altro problema interessante che tocca la norma. Cioè la norma viene a volte intesa in una maniera univoca, come qualcosa di bianco o nero, senza alternative. Non è così, perché in realtà esiste un uso diverso della lingua a seconda di certe varietà che nella diapositiva che si vede qui sono chiamate con un termine tecnico, su cui ora però chiariremo, diatopica, diastratica, diafasica. In sostanza vuole dire che si parla in modo diverso a seconda del luogo in cui si è, in Italia questo è molto notevole, perché esistono gli italiani regionali che vengono usati anche delle persone colte, quindi differenze geografiche all'interno della medesima lingua, un fiorentino non parla come un turinese e non parla come un siciliano, diastratica e diafasica, cioè legati al livello di discorso per cui non si parla allo stesso modo in una cena in famiglia, in un discorso al Quirinale, se sapevo venivo, se avessi saputo sarei venuto, io stesso userei tranquillamente se sapevo venivo in famiglia, dove sarebbe addirittura affettato a ricorrere a una forma diversa, ma certo se parlassi di fronte a un consesso importante al Presidente della Repubblica in una conferenza formale, userei, se avessi saputo sarei venuto. Ecco una differenza legata al livello della comunicazione. L'italiano moderno ha mostrato naturalmente da sé, attraverso l'uso della gente, ma anche attraverso le scelte degli scrittori contemporanei, spesso non tanto attenti allo stile, una certa acquiescenza crescente verso il parlato e i modelli informali. Certo, esiste una retorica dell'informalità, così come esiste il gusto oggi di levarsi la giacca quando si fa un intervento pubblico, come dire che sono più vicino al pubblico, così parlo con un italiano meno forbito, perché così sono più vicino alla gente, sono più spontaneo. Abbiamo dunque messo in chiaro che il potere della lingua è frazionato, sta nelle mani di enti, istituzioni, le accademie, certe accademie, in Italia l'Accademia della Crusca, anche in Francia l'Accademie Francaise, ma in maniera frazionata, cioè nessuno di coloro che controllano la lingua la controlla completamente, nei grammatici, negli insegnanti, nelle accademie, tantomeno lo Stato. La risposta definitiva in fondo la comunità, perché la lingua è un organismo profondamente democratico che decide da sé dove deve andare, il che non vuol dire poi che ci sia una situazione di anarchia, non è così, perché c'è un equilibrio di forze, un equilibrio di tendenze, c'è nelle regole, c'è nelle parole. Per esempio avrete notato che per tutto il tempo io ho chiamato le diapositive, diapositive e non slide, per esempio. Lo so benissimo di essere in minoranza, perché i parlanti italiani in linea di massima sceglierebbero e scelgono slide, ma non si è obbligati naturalmente a andare in quella direzione. Chi non ama in questo caso un forestierismo può ricorrere a una posizione diversa e usare una parola italiana che ritiene ugualmente legittima. La lingua è anche questo, cioè all'interno della lingua c'è concorrenza tra le forme. Due forme possono essere in concorrenza per secoli, come è stato per esempio per il lui soggetto, in alternativa a l'egli soggetto. Per molto tempo quel lui soggetto era naturalmente in concorrenza, ma in un livello basso, minoritario, perché era da ignoranti, perché Bembo aveva codificato una regola diversa. Ma lei soggetto non è sparita, ha continuato a esistere e con Mazzoni è riemerso e forse oggi sta vincendo. Quindi all'interno della lingua, nei casi grigi in cui non c'è un errore marchiano, perché se la comunità riconosce l'errore marchiano, questo errore rimane a livello di errore e non ha nessuna possibilità di vincere. Io ando a scuola, è una forma che non verrà accettata dagli italiani a nessun livello, né dai meno colti e ne dai più colti, quindi non entra in concorrenza, ma lui e lei, come dicevamo, questa concorrenza l'hanno sviluppata e magari ci vogliono secoli per vedere, per scoprire chi la spunta, cioè chi vince e dov'è dunque il potere della lingua.